Ciao a tutti, figli d'Italia, sono Coglionello e oggi vi voglio parlare del torneo dei Nautilus. Abbiamo già scritto abbastanza sulla wiki, vi dico dove trovare la wiki. Nel canale annunci, selezionate il link, vi aprirà la wiki. Io ce l'ho in modalità scrittura? No? Ok. Andate nel menu, se siete da telefono sarà un menu a tendina. In combattimenti, torneo, aprite, alla ricerca del Nautilus. Ok? Qui è stato descritto leggermente in che cosa consiste il torneo. Suggerimenti sulla tattica e anche la partenza ideale. Ha tanti altri suggerimenti su come muovervi, soprattutto ci saranno anche, come vedete, le mappe con i pacchetti. Tenete in considerazione che i pacchetti contano solo quelli in terra, quelli in mare non contano. Ok? Ora, man mano che mi viene qualcos'altro in mente, aggiungerò altro. Quindi ogni tanto andateci sulla wiki per vedere se ci sono degli aggiornamenti. Magari vi avviserò quando li metto. E ci sono spese anche due parole per ogni mappa. Ora, andiamo alla battaglia. Visto che già la tattica è descritta, andiamo alla battaglia. Vi faccio vedere, ancora non ho giocato tanto, vi faccio vedere una battaglia dove in qualche maniera si vede come gestire i vichinghi. Non sono partito benissimo, però alla fine ho vinto perché immagino per una migliore gestione dei vichinghi. Battaglia ai gemelli. Allora, apertura di mare, centro costruzioni, CA, CE, livello 2, prima due caserme con relativi fanti, boost, produzione. Dobbiamo prendere più pacchetti in terra, ok? Non dimenticate di costruire la fabbrica di veicoli d'assalto, altrimenti non potrete fare il porto. E via di raccolta pacchetti. Ignorate questi, poi li prenderete con i fanti dopo. Ok. Tagliate. Dividete i due fanti per prendere più pacchetti. Io qua ne perdo due. Questo e quest'altro. Lo perdo pure, perché si dicono che ho giocato benissimo. Questo ha dato un vantaggio e risorse all'avversario che gli ha permesso di costruire più vichinghi, ma poi, ripeto, ci andremo a breve. Però recupero un pacchetto qua, che lui ha dimenticato. Quindi, solo un pacchetto in più ha preso. Quindi, poi, cosa fare? Praticamente, mentre costruite la base con le risorse che prendete, dovete posizionare, prima di tutto, una boa, un centro, un cantiere navale, e tenere il boost costruzione. Per farvi vedere i pacchetti, mi sono perso questo dettaglio. Ok? Con il boost costruzione attivo. Non fate altri delta. Fare due delta vi potrebbe permettere, potrebbe permettervi di prendere il secondo pacchetto qui. Però, con uno bravo, avere il secondo pacchetto non serve. Puntate subito alla caserma a livello 2 per produrre immediatamente vichinghi. Io mando il mio delta per prendere il pacchetto. Vedo che ci sono dei caimani, però lo mando sul punto per rarrentare la presa del pacchetto. Intanto, i vichinghi non servono a niente. Posizionando bene il centro di costruzione, potrete mettere, dopo la prima boa, in questa mappa, i gemelli, una boa più bassa qui sotto. Perché? Cosa serve questa boa qua, questa torretta silurante? A chiudere la via a questo anfranto, a questa rientranza, a questa baia, che permette a un vichingo di entrare e fare danni qui. Ok? Invece, una boa posizionata qui bloccherà la strada. Nel frattempo, continuiamo a costruire. Lui sta minando, sprecando risorse. Pacchetto per sé, per lui, perché aveva più caimani. Non vi preoccupate, un pacchetto in più o in meno non cambia niente. Il vostro obiettivo è costruire più vichinghi possibili. Cominciamo a metterli, a posizionarli. Pacchetto nuovo, via. Ok, mi metto sulla zona di cattura. Vedete, io cerco di mettere sempre in una linea, in modo che i vichinghi sparino contemporaneamente a qualunque attacco, a qualunque angolazione d'attacco, il nemico arrivi. Quindi, li metto in linea e li blocco. Imposto il punto di raccolta qui, dove mi serve. Lui arriva con tre alligatori. E subito il boost, attacco marino. Quindi attacca per prima. I miei vichinghi non avanzano perché avevano il comando di stop e do il mio boost. Nel frattempo, mando la produzione subito nel sito. I rinforzi fanno fuori i suoi alligatori. E qui, per bloccargli la presa, cambio boost in attacco flotta per aumentare la velocità e il danno. Vado a contestare il punto. Fermandolo. E, come vediamo, a breve a prenderlo. Sempre mettere in produzione vichinghi. Io qui provo a fare scouting per vedere se fa un attacco di terra. Non si organizza per un attacco di terra, va bene? Io sono ben posizionato. Vedete, lui manda uno a uno altri alligatori. Ma non ce la fa. Sito di raccolta, mio. Ho fatto solo 5 CA. Continuo a produrre vichinghi a bestia. Ok. Vedete come sto posizionando? Ok? Questa è la parte larga, come scrivo nella wiki, è la parte larga di mare. Quindi creo una linea nella parte larga di mare. Qui potrete, se volete, fare altre boe. Però puntate prima i vichinghi. I vichinghi sono quelli che, cioè, è la potenza di fuoco che potete spastare ovunque. Ok. Io qua mando un elicottero per vedere un po' la situazione. Fare ricognizione, esplorazione, se avete tempo e risorse, è sempre importante. La stessa cosa lo fa lui. Io costruisco un bunker per fermare quel coyote. Che è un po' coyote. 3 a 10. Siamo pari. Vedete la linea? Tutti bloccati. Tutti, possibilmente, che guardano il nemico. Pacchetto suo. Glielo lascio. Non distruggo delta. Cioè, non sacrifico vichinghi inutilmente. Faccio un altro scouting. Niente terra. Quindi mi butto totalmente in mare. E continuo a produrre. Eventualmente, se vedete che la linea è quasi piena, fate una seconda linea. Ok. Altro pacchetto. A metà strada. Tra me e lui. Il primo passo lo fa lui. Ok. Mette un alligatore. Io ne mando due. E mi fermo qui. Non lo contesto. Lui, spazientito, attacca. Ho fatto il conteggio prima. Ma sono 19 vichinghi per lui contro forse 16 dei miei. Però lui fa una gratinata. Ha un angolo di attacco. Vedi? Vedete? Non unito. In più qui c'è una mia prova. Io a breve mando tutti dall'alto. Poi lui manda anche altri alligatori qui. Per cercare di farmi fuori la base. Ha pensato di che aveva la vittoria. Ma non aveva visto tutti gli altri vichinghi. Questo è quello che dovete raggiungere. Linea d'attacco unita. Lui ha separato i suoi vichinghi. E si è ritrovato con le pezze al pulo. Continuate a produrre. Io ho avuto tutto lo spazio di spiegare i miei vichinghi. Vittoria. Ragazzi, mi raccomando. Giocate torneo. Se vi serve una mano, consigli, chiedete e guardate la wiki. Alla prossima battaglia.